Vuole recuperare terreno Marco Tuminello che già due anni fa, estate 2017, era tra i papabili per l'attacco della lista stilata dall'ex DS Peppino Pavone. Poi è vero, molta sfortuna, grave infortunio al ginocchio a Crotone in prestito dalla Roma dove, per inciso, aveva debutato in A a soli 17 anni. Ha acquistato dall'Atalanta appena due presenze nei primi sei mesi dell'ultimo campionato, quindi il trasferimento a Lecce, senza però lasciare il segno, appena sei presenze e un gol nel match col Carpi. A conti fatti non una scelta felice lo scorso gennaio, malgrado il pressing del Pescara. Accade che una sera stavo per ritiro con l'Atalanta, mi chiamò il ministro del Lecce, parliamo di qua e di là, allora mi convinse tramite delle parole. Dei messaggi, anche una piazza calda, quindi ho detto voglio provare a fare questo passo, di scendere dall'A alla B. Ho fatto, ho fatto quello che dovevo fare, anche se poco, però non ti dico che ho sbagliato, ho fatto bene, però sono contento della scelta che ho fatto. Purtroppo indietro non si può tornare. Quanto ha influito però il sistema di gioco? Perché è chiaro che con Pillon si giocava con Terminale, mentre Liverani ha sempre optato per le due punte. Ma il sistema di gioco incide tanto in un giocatore, perché io da un paio di anni ero più a giocare a due che a uno, quindi il mister Liverani comunque l'idea sua era di un 3-1-2, quindi per me era molto meglio in quei sei mesi, dove venivo dall'Atalanta che avevo fatto due presenze. Quindi il fatto del sistema di gioco ha molto influito in questa decisione. Il problema è che sei arrivato a Lecce e la Mantia ha cominciato a segnare ogni giorno. No, vabbè, non è un alibi questo. Sono contento per lui che ora ha fatto un grande passo di giocarsi a sera, di mettersi in mossa, sono contento comunque perché se lo merita. Tu sei un attaccante prevalentemente d'area di rigore. Sì, sì, prevalentemente in area di rigore. Soprattutto statura fisica e colpi di testa in mezzo all'area sono le mie potenzialità migliori. Sei cresciuto troppo presto, perché viene questo dubbio, no? Alla Roma tutti parlavano di te, 19 gol in 18 partite del campionato primavera, lo scudetto, tanti trofei, poi l'esordio anche in prima squadra. No, sì, sono cresciuto così in fretta perché sono stato da solo, mentalmente ho detto che devo arrivare a questo obiettivo e piano piano lavorando con la squadra, anche con la primavera e ogni tanto con la prima squadra sono arrivato a coronare il mio sogno dell'esordio in serie a 17 anni. Tanti ti dicono che vieni qua per giocare e fare, però poi sempre sta a te dimostrare in campo e dimostrare al mister quanto vali. Poi nelle tue vene scorre il sangue siciliano, quindi insomma... Bello forte, per non dire altro in solo un'intervista.